Il mondo intero in me 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 Siete giunti in una pianura speciale, fatta di antichissimi resti preistorici. Questo è quello che rimane di noi esseri viventi dopo un po' di tempo. Una miniera di materiale preziosissimo per i paleontologi e per comprendere quindi da dove veniamo. Ora chiudete gli occhi e immaginate questa pianura coperta di spazzatura e di ogni genere di rifiuto che lasciamo disperso per incuria sulla terra. Ne conoscete i tempi di decomposizione? Se riuscite ad abbinare in modo corretto almeno 3 su 4 nomi di rifiuti e rispettivi tempi di decomposizione, potrete andare avanti con la carta sfida, altrimenti la possibilità del gioco di aiutarvi si fermerà qui. La soluzione la trovate togliendo l'etichetta che trovate qui sotto e non fate i furbi. 3 su 4 non è semplice, però proviamo dai. Dai, allora, fazzoletto di carta, lo so, 4 settimane. Gomma da masticare? Secondo me un anno, invece giornale 5-6 settimane, questo è sicuro. E bottiglia di plastica? Secondo me mai completamente, dai scopri. Sì, li abbiamo indovinati tutti tranne la gomma da masticare. Leggete, servono 5 anni per farla decomporre. Dovremmo dirlo ai nostri amici. Già, ora vai, possiamo girare la carta a sfida. Leggo. Se girate questa carta, è perché finora siete stati eccezionali, ed è per questo che vi meritate un regalo speciale, ossia quello di essere i protagonisti di una scoperta straordinaria. Guardatevi bene intorno. La sfida è riuscire a trovare qualcosa che nessun altro ha mai avuto l'onore di trovare. E ricordate, se nella vita saprete dare priorità all'essenziale, la vostra polvere sarà traccia di qualcosa di prezioso per chi verrà dopo. Come al solito, queste carte sono al limite del comprensibile all'inizio. Io capito solo che dobbiamo cercare qualcosa di particolare. Andiamo. Ehi, venite qui. Credo di aver trovato qualcosa di eccezionale. Non ci credo. Se il mio professore di storia fosse qui, piangerebbe come un bambino. Credo che siamo di fronte all'uomo preistorico più antico mai trovato. Ed è perfettamente conservato. Se fossimo sulla terra, finiremmo su tutti i giornali e diventeremmo famosi per questo ritrovamento. Robby, fai almeno qualche foto. Mi dispiace, Emma. Macchina fotografica dispersa durante il naufragio. No! Non pensarci, Emma. Goditi questo spettacolo meraviglioso. Generazioni di uomini e di animali confuse in questo cimitero. Anche se è strano vedere qui, immobili, il resto di una vita che deve essere stata vivace, movimentata, animata come la nostra. Ma no, Anna. Di noi non resta solo questo, se siamo stati bravi a dare priorità alle cose essenziali. Il gioco non poteva farcelo comprendere meglio. La carta prima diceva, se nella vita saprete dare priorità all'essenziale, la polvere sarà traccia di qualcosa di prezioso. E se ci pensi è così. Quando non ci siamo più, resta quello che abbiamo lasciato. Le relazioni che abbiamo curato, i ricordi che abbiamo costruito nella vita di chi ci sta accanto. Ovviamente se avremmo dato priorità a questo nella nostra vita. Se invece ci concentriamo su cose superflue... Già, avete ragione. Sentite, secondo voi questi esseri animati sono scivolati sulle rive del mare per movimenti del terreno quando erano già ridotti in polvere? Oppure sono vissuti in questo mondo sotterraneo, sotto questo cielo fittizio, nascendo e morendo come gli abitanti della terra? Credo di avere la risposta. Guardate lì. Siamo certi non sia una nostra allucinazione? Uh, mamma mia, non so. Diamocela a gambe. Torniamo indietro. Nessun umano potrebbe affrontare quei quadrupeti giganteschi. Proprio nessuno no. Guarda lì in mezzo. C'è anche un essere umano. Concordo con Robby. Andiamo via, anche se non è affatto semplice rientarsi in questo posto. Andrei da questa parte, anche se è difficile essere del tutto sicuri, perché tutte queste rocce si assomigliano tutte. Credo però di riconoscere il promontorio vicino al porto in cui abbiamo costruito la zattera. Non so, ritroveremmo almeno le nostre stesse tracce. E io invece non vedo nulla. Io invece ho visto qualcosa. Ecco qui. Scusami, avevi portato pure un'arma con te? Io? Niente affatto. Ma voi? Tu, Robby? Visto che c'è nascosto di aver portato anche altra roba. Ma scherzi! Questo oggetto non è mai stato mio, giuro! Questo è molto strano. Se fosse l'arma di qualche guerriero antidiluviano? D'un uomo vivente, d'un contemporaneo di quel gigantesco pastore? Ma no, non è un utensile dell'età della pietra e neppure dell'età del bronzo. Questa lama è d'acciaio. Vero, non può appartenere né a me né a voi e nemmeno agli esseri umani che forse vivono al centro della terra. Questa lama è rimasta abbandonata sulla sabbia da cento, duecento, trecento anni e si è scheggiata sulle rocce di questo mare sotterraneo. Ma non può esserci venuta da sola. Qualcuno ci ha certamente preceduti. Sì, un uomo che ha inciso il suo nome con questo pugnale. Se è quello che penso io, è un uomo che ha voluto ancora una volta segnare con la sua mano la strada del centro. Dai, cerchiamo, cerchiamo! Ecco, A.S. Arn Sacknusem. Sempre Arn Sacknusem. Avevi ragione, Robby. Un genio! Non ha lasciato nulla al caso per i viaggiatori che avrebbero ripercorso il suo stesso viaggio. Sì, stiamo davvero ripercorrendo le sue tracce. Capite? Siamo sulla strada giusta. Dai, torniamo alla zattera. Dobbiamo ripartire!